Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un tema che in queste ultime settimane ha avuto uno sviluppo enorme, ossia l'e-commerce, quindi le vendite online. Esistono in realtà da tanti anni, anche in Italia, ma mai come in quest'ultimo periodo hanno avuto una spinta, data purtroppo dalla chiusura che abbiamo vissuto tutti quanti, ma in realtà da una propensione che era già partita per una nuova esperienza di acquisto, quindi un acquisto non più nel luogo fisico, ma attraverso le piattaforme e quindi i siti. Quindi cosa ho pensato di fare? Insieme a Giovanna Barbieri di Dynamic Studio e Francesca Rizzi di Rizzi Consulting, abbiamo pensato di creare un mini corso in cui abbiamo affrontato gli aspetti amministrativi, gli adempimenti legislativi e gli aspetti marketing dell'apertura di un e-commerce. Questo perché? Perché quando tu lavori anche con un negozio fisico, la parte online è comunque diventata un aspetto fondamentale della tua attività. Abbiamo pensato quindi di affrontare prima gli aspetti generali, quindi gli adempimenti, e poi di rispondere alle domande che ci sono arrivate dai partecipanti e dagli iscritti al webinar stesso. Questo perché l'importante è, oltre a affrontare gli aspetti generali che comunque tutti noi conosciamo, è importante calare nella realtà poi quello che dobbiamo andare a fare. In questo webinar che abbiamo tenuto tutte insieme e che trovi sia nel link in descrizione che qua sopra, siamo state dirette con il precioso supporto di Serena Fasti di Dynamic Studio che ha retto le fila di questo incontro. Se questi aspetti ti interessano e quindi li vuoi approfondire, mi puoi scrivere nei commenti, puoi farmi delle domande, puoi seguirmi comunque su tutti i miei canali, quindi ti puoi iscrivere per rimanere sempre aggiornato e ci vediamo alla prossima con un altro video. Ciao!